Prende il titolo di Due realtà, un solo scopo, sviluppo sostenibile e attrattività delle zone rurali. La conferenza bilaterale Italia-Lituania che si è tenuta nel Salento dal 2 all'8 ottobre scorsi, organizzata dal gruppo di azione locale Isola Salento, di cui fa parte anche il comune di Galatina, in partenariato con la presidenza della regione lituana di Panevezis. Il gruppo di azione locale è la Onlus Reti di Pan. La conferenza itinerante ha fatto sosta in alcuni comuni del nostro Salento, tra cui Galatina, che ha ospitato i delegati nella mattinata di domenica 7 ottobre, a fare gli onori di casa il sindaco Cosimo Montagna, il vice sindaco Roberta Forte, l'assessore Alberto Russi e gli assessori consiglieri comunali. Dopo la messa solenne presso la Basilica di Santa Caterina, gli ospiti sono stati accolti a Palazzo Orsini, nel Salone del Sindaco, per i saluti di rito. La conferenza ha potuto contare sulla presenza dei rappresentanti della regione lituana, tra i quali amministratori, membri del Gal, imprenditori di diversi settori, educatori esperti di cultura e tradizioni locali. La conferenza si propone di rafforzare le capacità delle comunità rurali della regione lituana e del territorio del Gal Isola Salento, per programmare ed implementare progetti attraverso lo scambio di buone prassi, di attuazione delle strategie di sviluppo locale. Le imprese potranno infatti stabilire contatti, volti ad esplorare le opportunità del mercato lituano nei settori dell'agroalimentare, del commercio, dell'artigianato e del turismo. Grazie. Grazie. Grazie.